Non possiamo abbandonare il territorio, stiamo vigilando affinché il patto per Catania produca gli effetti desiderati, lo ha detto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni partecipando a Catania a un incontro con il Sindaco Enzo Bianco. Il Sottosegretario della Salute Davide Faraon ha visitato il Rosocomiblei e ha potuto constatare lo stato dei lavori, soprattutto del Giovanni Paolo II che potrebbe essere inaugurato prima di giugno. Parole confortanti sono giunte sul periodo di riordino. Canetti su sei chilometri di spiaggia a Scigitana il Sindaco Enzo Giannone ha chiesto alla Regione modalità e tempi di rimozione coinvolgendo anche la Prefettura, assente la Regione che deve dare ancora una risposta. Il giornalista Michele Giardina ha presentato il suo libro Mare rotto ieri pomeriggio a Modica, un evento voluto dall'Unità e dall'Associazione Confronto. Buonasera ancora, ben trovati a questa nuova edizione. Non possiamo abbandonare il territorio e stiamo vigilando affinché il patto per Catania produca gli effetti desiderati. Lo ha detto il Premier Paolo Gentiloni partecipando a Catania a un incontro con il Sindaco Enzo Bianco, i sindaci della città metropolitana e le forze imprenditoriali e sociali della città. Facciamo il punto nel servizio di Sara Donzuso. Ha descritto una città con grandissimi progetti Enzo Bianco parlando di Catania al Premier Paolo Gentiloni in visita nella città Etnea. Grandi progetti per una città che però non ai fondi per la vita ordinaria, ha sottolineato il primo cittadino, dalla sicurezza all'assistenza alle famiglie disagiate alla spicciola manutenzione. Per questo Bianco ha rivolto un appello al primo ministro. Non voglia le mosine, ha detto il Sindaco nel presentare la città metropolitana, ma abbiamo bisogno di attenzione per lavorare bene tutti noi sindaci. Alle parole del Sindaco sono seguiti gli appelli degli industriali e dei lavoratori con una lettera scritta da un'ex lavoratrice in rappresentanza di CGL, Cisle, Will e UGL. Il Premier Gentiloni prendendo la parola ha sottolineato come non si può dimenticare il Sud. Per quanto riguarda il governo, quello che io posso confermare è il nostro impegno sui diversi capitoli del patto per Catania. Le cose vanno avanti, ci sono certamente dei colli di bottiglia su cui intervenire. Uno relativo al porto, lo ricordava Enzo Bianco nel suo discorso e certamente vi assicuro che me ne farò carico personalmente. È uno degli impegni maggiori che dobbiamo prenderci per far ripartire l'Italia. l'Italia non può essere solo un paese in cui tira l'industria che fa esportazioni, deve essere un paese che riprende velocità e serietà negli investimenti pubblici che fa nel proprio territorio. Turde presidi sanitari della provincia di Ragusa questa mattina per il sottosegretario alla salute Davide Faraone. Quest'ultimo ha potuto visitare il civile di Ragusa, il Giovanni Paolo II, l'istituto di zoo profilassi, il maggiore di modica, il busacca di cicli. Riflettori puntati prevalentemente sull'importanza di consegnare il nuovo ospedale alla città di Ragusa. Faraone ha espresso molta soddisfazione nell'appurare la funzionalità della struttura iblea. Ce ne parla Marco Scavino. Un modo per confermare l'interesse e la volontà di dare risposte al territorio ragusano. Si può in sintesi spiegare così la visita del sottosegretario di Stato Davide Faraone questa mattina a Ragusa. Un'intensa giornata iniziata con la visita da prima dell'ospedale civile, poi del Giovanni Paolo II, dell'istituto di zoo profilassi di Ragusa e successivamente la visita a modica e a cicli. Faraone prima ha raggiunto l'ospedale civile, come detto, per poi spostarsi in contrada Cisternazzi, dove sorge la nuova struttura destinata a diventare cuore pulsante della sanità ragusana. Il sottosegretario di Stato ha espresso parole di forte apprezzamento per il Giovanni Paolo II. A mostrare i reparti e a spiegare le peculiarità del nuovo centro, il manager dell'Asp, Maurizio Arricò. Soddisfazione per il centro, sotto un punto di vista non soltanto strutturale, ma anche funzionale, è stata espressa dal sottosegretario, che ha sottolineato adesso l'importanza di consegnare alla città di Ragusa l'ospedale Giovanni Paolo II. La base per poter fornire un servizio efficiente ai cittadini in ambito di salute è avere delle infrastrutture all'altezza. Il vecchio ospedale di Ragusa è un ospedale ormai piccolo, che necessitava di un intervento di innovazione profonda, per cui essersi trasferiti, almeno questo trasferimento accadrà il più breve tempo possibile in questa grande infrastruttura, è assolutamente positivo e quindi è importante per fornire servizi ai cittadini. Avete parlato anche di tempi. È importante essere qui in modo che si accendano sempre i riflettori sulla tempistica, che è quello che interessa soprattutto ai cittadini, perché una così bella infrastruttura deve essere messa al servizio ai cittadini nel più breve tempo possibile. Per cui io naturalmente sono fiducioso, il direttore mi ha garantito tempi brevissimi, per cui sono veramente felice di aver visitato una struttura che è un fiore all'occhiello per la sanità siciliana. Un tour guidato dal manager dell'ospedale 7, Maurizio Aricò, che appunto ha fatto visitare anche i futuri reparti. A parlare della cronistoria e del futuro dell'ospedale ragusano è stato il deputato regionale Nello Di Pasquale. Tra poche settimane potrebbe arrivare dall'ASP di Ragusa una importante comunicazione concernente l'apertura dell'ospedale Giovanni Paolo II. A sostenerlo il manager Maurizio Aricò, che ha lasciato intendere su una importante svolta per quanto riguarda la struttura eiblea. La visita del sottosegretario Davide Faraone per Aricò ha rappresentato un ottimo stimolo per la corsa finale che vede come traguardo l'apertura del Giovanni Paolo II. A nome dell'azienda che ho l'onore di dirigere e soprattutto delle tante donne e uomini che stanno lavorando in maniera indefessa da molti molti mesi per raggiungere questo risultato che mi permetto di dire è un risultato storico per questa provincia. Oggi il sottosegretario ha suggellato quello che fino adesso era una nostra speranza. questo ospedale si apre, questo ospedale è un oggetto di erogazione di assistenza di qualità altissima e darà veramente una svolta alla possibilità di venire incontro all'esigenza di salute dei pazienti di Ragusa. Questo è il loro ospedale e noi saremo felici di consegnarglielo tra poche settimane. Quando? Permettetemi di darvi la data che sarà quella definitiva del giorno in cui apriremo ma come vi accorgerete fra pochi giorni vi daremo delle indicazioni precise. Ad esprimere parole confortanti sul futuro dell'opera è stato il deputato regionale Nello Di Pasquale. Quest'ultimo, già sindaco di Ragusa, conosce la storia e la evoluzione del Giovanni Paolo II. Nell'occasione della visita del sottosegretario Faraone Di Pasquale ha sottolineato come tutti gli sforzi fatti a breve saranno ripagati. Seguo questa struttura da quando ero sindaco di Ragusa e forse una delle ultime cose che ho fatto è stata proprio la fognatura e il legamento della strada viaria. L'ho seguita da parlamentare, ho contribuito a trovare le risorse per chiudere questa struttura. Parlo degli ultimi 8 milioni di euro, vi ricorderete che poi c'era stato un momento che si era bloccato anche una gara all'Ureca e su questo siamo riusciti ad intervenire perché mancava lì una figura e grazie all'assessore Pistorio si è completato anche questo tipo di gara. Niente, siamo verso la fine. Al di là degli uccelli del malaugurio, di tutti quelli che godono quando le cose non si fanno, questo ospedale si aprirà e si aprirà funzionante con gli operatori, con i malati, con tutti. L'ospedale, così come avete visto anche voi, è a buon punto e quindi siamo arrivati a tornare alla fase finale. E durante la visita del sottosoletario si è parlato anche del riordino della rete ospedaliera siciliana. Grazie a fornire parole confortanti è stato proprio il presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, Pippo Di Giacomo. Il presidente della Commissione Sanità all'Ars, Pippo Di Giacomo, è tornato a parlare della rete ospedaliera, dei suoi aspetti, delle sue novità e, perché no, delle sue vocazioni. Il progetto, secondo Di Giacomo, è oramai in direttura d'arrivo e lascerà soddisfatti gli utenti che vedranno una trasformazione della rete ospedaliera non indifferente ma soprattutto non deludente. I tempi dovrebbero essere rapidi a quanto mi riferiva l'assessore regionale che in questa settimana doveva avere gli incontri conclusivi per il varro della rete ospedaliera. Se così fosse noi riusciremmo a mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale attraverso le procedure di stabilizzazione concorsuali da qui a prima dell'estate. Io posso assicurare che non appena la rete arriverà in commissione, nel breve volge di qualche giorno, il parere obbligatorio sarà reso e non perderemo tempo. Io mi immagino che non perderemo tempo se, come sono certo, la rete asseconderà questo progetto di maggiore benessere per il paziente. Per Di Giacomo la polemica concernente un paventato depotenziamento di Modica Scicli è sepolta. Il presidente della commissione sanità ha puntato ai riflettori sull'importanza del maggiore di Modica e sui servizi che offre all'ampio bacino di utenza che copre. L'ospedale di Modica, l'ospedale riunito Modica Scicli ha tutte le caratteristiche per poter essere considerato e classificato come ospedale di Spock, ma per delle ragioni non campanedistiche ma perché così nei fatti. Tra l'altro per la parte della provincia di Ragusa serve una vasta popolazione di immigranti che dobbiamo servire in ogni modo e quindi non si capirebbe questa mancata classificazione. Passiamo adesso alla cronaca. Ha tentato di uccidere due poliziotti della squadra mobile di Ragusa con la macchina poco prima rubata nel garage di un'abitazione a Ragusa. Così la squadra mobile ha arrestato dopo poche e poche ore. Un pluri pregiudicato comisano che dovrà rispondere di tentativo di omicidio, furto in un'abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ha tentato più volte di uccidere i poliziotti che lo stavano bloccando, ma alla fine Rosario Barone, pluri pregiudicato comisano, è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa che lo ha assicurato alla giustizia. Un pericolosissimo criminale adesso rinchiuso nel carcere di Ragusa in attesa della convalida. Alle 5 del mattino di ieri alcuni agenti in Borghese durante i servizi di perlustrazione a Ragusa hanno notato un uomo incappucciato che si introduceva in un garage condominiale. In un primo momento la polizia ha pensato che potesse trattarsi di un condomino, ma successivamente il rumore di un motore ha messo in allerte i poliziotti che hanno spostato l'auto di servizio, ostruendo parzialmente la scivola del garage. All'uscita del mezzo i poliziotti hanno riconosciuto Barone, gli hanno intimato l'alt, ma lui ha puntato dritto verso i due agenti, accelerando. Per fortuna i due poliziotti poco prima dell'impatto con l'auto si sono gettati a terra, riportando lievi ferite, mentre un terzo poliziotto, preso di mira anche lui da Barone, ha trovato un riparo dietro l'auto di servizio. I poliziotti hanno anche esploso, un colpo in aria, sperando che l'uomo si fermasse, ma non è stato così. Barone è dunque riuscito a fuggire con l'auto rubata, che poi ha abbandonato a pochi isolati. La squadra mobile dunque ha cominciato a setacciare tutti i luoghi più frequentati dall'uomo e in meno di due ore è stato rintracciato a casa della compagna, un posto in cui non poteva neanche essere domiciliato, perché colpito da divieto di ritorno nel comune di Ragusa a causa di diversi furti già commessi in passato, con lo stesso modus operandi. Alla vista degli agenti, Barone ha tentato ancora una volta di fuggire, colpendo anche una donna poliziotto, che ha riportato lievi ferite. Per fortuna i due agenti sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Intanto la polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul veicolo rubato e presso il garage, appurando che anche questa volta era stato aperto con un telegomando idoneo ad aprire diversi tipi di saracinesche. La polizia di Vittoria questa mattina ha identificato e denunciato un 32enne blu di pregiudicato, ritenuto l'autore dei messaggi di testo inviato al sindaco di Vittoria Giovanni Moscato attraverso il servizio di messaggistica e istantanea messenger di Facebook a seguito di una trasmissione sulle agromafie. Il giovane, che ha ammesso le sue responsabilità, è già destinatario nel 2011 di una misura cautelare in carcere per il reato di estorsione e già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il 32enne, nelle interlocuzioni col sindaco, ha utilizzato un profilo con nome di fantasia e ha confidato agli agenti di essere stanco e di sentire parlare sempre di mafia, il sindaco e il giornalista Paolo Borrometri perché in città ci sono anche altre priorità. Poi però il pregiudicato ha anche inviato dei messaggi dal contenuto diffamatorio e intimidatorio. I carabinieri di Pozzallo e Marina di Modica hanno arrestato la scorsa notte due giovani incensurati pozzalesi. Un 33enne, un 19enne, per possesso di droga ai fini dello spaccio. I due sono stati notati mentre a bordo della loro autovettura si aggiravano con fare sospetto. Sono stati sottoposti a una perquisizione veicolare e personale e sono stati trovati in possesso di 15 grammi di cocaina, 45 euro, ritenuti il provento dell'attività illecita di spaccio. I giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del sostituto. procuratore di turno Andrea Sodani sono stati condotti nella casa circondariale di Catania, Piazza Lanza. Botta e risposta tra il sindaco di Sciglienzo Giannone, il deputato regionale Orazio Ragusa, sulla paternità del piano integrato di Iungi, firmato mercoledì scorso a Palermo. Un caso diventato politico, con un acceso di verbio tra i due esponenti sciclitani che si contendono i meriti di questo importante risultato che darà un nuovo look al quartiere più popoloso di Scigli. Ce ne parla Catiuscia Carpentieri. Il piano integrato di Iungi è il pomo della discordia tra il sindaco di Scigli, Enzo Giannone e l'onorevole Orazio Ragusa. Botta e risposta tra i due esponenti politici che si contendono il merito di questo importante traguardo che vede quasi 14 milioni di euro da investire per riqualificare il quartiere Iungi a Scigli e la cui convenzione è stata firmata dal sindaco di Scigli, Enzo Giannone, mercoledì scorso a Palermo, alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Ragusa. Il sindaco di Scigli, scrive in una nota stampa Orazio Ragusa, continua a fomentare inutili contrapposizioni, ma di una cosa sono sicuro, non mi può impedire di operare al meglio per il bene della città in cui sono nato e cresciuto. Per l'onorevole Ragusa il risultato ottenuto non è frutto esclusivo dell'aggiunta attualmente in carica perché scrive negli ultimi tre anni dalla revoca del progetto avvenuta nel dicembre del 2014 alla sentenza favorevole del Tar nel maggio 2016 il sindaco Giannone non era presente. L'unico merito che ha avuto questo sindaco, continua il deputato regionale, è di avere convocato l'aggiunta lo scorso 31 gennaio per l'approvazione definitiva del progetto esecutivo proposto in conferenza dei servizi e di avere sottoscritto la convenzione mercoledì scorso a Palermo. Sulla vicenda possiamo confrontarci, scrive Ragusa, come e dove il primo cittadino riterrà opportuno. Resta sempre la mia disponibilità di continuare a collaborare per rilanciare e completare i grandi progetti della città di Scigli. E non si è fatta attendere la replica del sindaco Enzo Giannone. Su dove si trovasse il sindaco Giannone nel 2014, 2015 e 2016, scrive il primo cittadino, l'onorevole Ragusa ha perfettamente ragione. Il sindaco lavorava al servizio della sua città svolgendo la sua professione con grande impegno e facendo crescere la comunità educativa. Non si trovava nei palazzi della regione dove si ritardava, se non addirittura si bloccava il piano integrato di Iungi. In città è stato rimesso in moto un meccanismo di partecipazione e democrazia dal basso che coinvolge l'ittera comunità, continua Giannone. Si respira un'area diversa dal passato e anche il linguaggio della politica è diverso. Se l'onorevole Ragusa non si sente coinvolta in questa rete di relazioni e in questo nuovo spirito cittadino, continua il primo cittadino, o parla un linguaggio politico diverso da quello dell'amministrazione, è un problema suo, non dell'amministrazione Giannone. Per quanto riguarda un confronto tra i due, il sindaco si dice disponibile, ma sottolinea che chi è in campagna elettorale è l'onorevole Ragusa e dunque non può accusare gli altri di essere sempre in campagna elettorale. Gli obiettivi e le opportunità di cui parla l'onorevole Ragusa, conclude il sindaco Giannone, li valuteranno i cittadini. Questo è un problema del deputato regionale, non certamente dell'attuale amministrazione comunale di Scicli. Le operazioni di pulizia dell'Arenile Sciclitano, il più colpito riferimento ai danni del nubifraggio del 23 gennaio scorso, non sono e non saranno semplici. Non tanto in riferimento ai lavori, ma quanto più all'aspetto burocratico. Il legname infatti risulta classificato come rifiuto e dunque non è possibile smartirlo, almeno in Sicilia. Una soluzione però è stata individuata dal sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ma per poterla vedere attuata si deve aspettare il parere della regione. Non è un esito soddisfacente quanto piuttosto un'apertura ad un iter complesso e problematico quello che è stato fornito al sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in riferimento alla pulizia dell'Arenile attualmente ricoperto da canne. Una situazione prospettata durante il vertice di ieri, promosso dal prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizi. Il caso di Contrada Spina Santa, dove 6 km di Arenile risultano essere impraticabili, in quanto ricoperti dai rifiuti vegetali che il nubifragio di gennaio ha lasciato in quei luoghi, pare non potrà essere risolto in un batter di ciglia. Durante il vertice, che ha fatto registrare la presenza di tutti gli attori protagonisti di questa complessa vicenda, ad eccezione della regione siciliana, che non ha inviato nessuno a rappresentarla, è stato evidenziato che l'inghippo starebbe proprio nella legge. Il problema, infatti, è che al momento le canne risultano essere un rifiuto e per lo smaltimento lato ambiente ha detto di non essere in grado di poter fornire una soluzione, in quanto in Sicilia non esistono centri che possano ospitare questo tipo di rifiuti. In pratica, se la regione dichiarasse le canne che giacciono lì da oltre un mese non un rifiuto, ma uno scarto vegetale, paradossale, ma funziona così, Il sindaco Giannone è sicuro che nel giro di pochissimi giorni si potrebbe procedere ad una rimozione con contestuale smaltimento a costi irrisori. Giannone, infatti, ha già studiato un piano. Delle ditte private interessate a legname potrebbero andare in quei luoghi e triturare le canne che poi potrebbero essere destinate ad essere riutilizzate per creare altro. Una soluzione semplice, economica ed ecologica che Giannone non può attuare se non arriva il benestare da crocetta. La regione siciliana se dovesse dichiarare le canne e il legname presente a Spina Santa andrebbe incontro ad una spesa pari ad oltre un milione di euro per la rimozione e non riuscirebbe allo stesso tempo a smaltire il materiale. Per Giannone non c'è tempo da perdere, si deve procedere immediatamente. Una nuova istanza partirà da Scicle alla volta di Palermo già lunedì per interessare del caso nuovamente la regione siciliana. Il Comune di Pozzallo ha rilasciato un attestato di merito a Francesco Giannone dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Pozzallo per il suo impegno nel sociale in particolare nei confronti di diversamente abili che da ormai dieci anni hanno la possibilità di accedere nella spiaggia grazie alla realizzazione della pedana attrezzata. Dopo dieci anni ha commentato non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione perché ogni anno queste persone possono avere la possibilità di fare il bagno e avere un luogo dove potersi fermare sull'arenile. Noi ci fermiamo per una breve pausa torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio. Adesso parliamo di baleazione perché è stato emanato il decreto che vieta la baleazione lungo le coste siciliane. Sono in tutto 48 i chilometri dei costa chiusi per inquinamento la provincia di Ragusa e quella meno coinvolta con tre siti la foce del fiume di Rillo e la foce del fiume Ippari ricadenti nei due territori di Ragusa e Vittoria. C'è anche la provincia di Ragusa tra quelle siciliane indicate dal Dipartimento regionale alle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che ha stabilito i tratti balneabili nel 2017. È stato infatti emanato lo scorso 17 febbraio il decreto con il quale vengono stabiliti i tratti non adibiti alla balneazione. In Sicilia dunque sono complessivamente 47,7 chilometri di costa vietata alla balneazione perché inquinata. La provincia di Ragusa è quella meno coinvolta così come scrive l'ASP di Ragusa sono solo tre i punti vietati alla balneazione per inquinamento la foce del fiume di Rillo ad Acate per un tratto di 200 metri la foce del fiume Ippari ricadente nel territorio di Ragusa e Vittoria per complessivi 350 metri di costa. Gli altri litorali della provincia eblea in cui è vietata la balneazione ma per altri motivi sono il porto di Scoglitti il porto di Donna Lucata il porto di Marina di Ragusa e il porto di Pozzallo. La provincia invece ad avere maggiore tratto di mare è vietato alla balneazione quella di Palermo con circa 22,4 chilometri di costa a seguire c'è la provincia di Messina con 10,3 chilometri di costa quella di Siracusa 4,2 chilometri Agrigento e provincia 3,8 chilometri di mare la provincia di Catania con 13 siti che interessano 3,5 chilometri di costa Trapani con 1,6 chilometri ed infine Caltanissetta in cui si registrano 5 siti con 1,4 chilometri Adesso i sindaci dei comuni interessati al divieto della balneazione riceveranno la comunicazione per poter poi emettere l'ordinanza di divieto che dovranno essere adottate entro e non oltre il prossimo 31 marzo specificando l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche Le ordinanze sindacali saranno poi trasmesse ai ministeri della salute e dell'ambiente agli assessorati regionali di competenza al Dipartimento Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Asp oltre alla struttura provinciale competente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente infine i sindaci dei comuni riveraschi dovranno adottare tutti i provvedimenti per proteggere i bagnanti dai tratti di costa vietati ultima pagina parliamo di teatro con una lettura completamente siciliana di Shakespeare del suo Macbeth ci viene offerta dall'autore e regista Vincenzo Pirrot che ha portato in scena la famosa opera dell'autore inglese riadattandola con gli usi i costumi isolani soprattutto quelli legati alle magie nasce così Macbeth una magheria una magheria una magia un incantamento intriso di ritualità occulte e arcaiche leggende siciliane Vincenzo Pirrot rilegge così Macbeth una rilettura che potremmo definire aspreta e rigna dell'opera shakesperiana la vicenda come ha spiegato il regista è introdotta da una danza magabra una vera e propria messa nera ufficiata alle streghe che presagisce influenze maligne un vortice incantatorio nel quale precipitano i protagonisti ho studiato a lungo i rituali dell'occulto soprattutto nel sud Italia per questo il rituale del prologo sarà in eletto l'opera che è debutato in prima nazionale venerdì 10 febbraio alle 21 al Teatro Biondi di Palermo che lo produce insieme al Teatro Sabile di Catania si è basata sulla traduzione di Carmelo Rapisarda finalmente c'è questo grande incontro tra i due stabili siciliani già avevano cominciato a collaborare a parlare io spero che questa collaborazione possa essere l'inizio di eventi e di la come dire la rinascita di una Sicilia che è stata la culla della cultura dall'antica Grecia in poi questo progetto come ha detto Pirrot è stato a lungo maturato ed elaborato medio di affrontare quest'opera ha detto da circa 10 anni ma le diverse ipotesi di scrittura e di messe scena che l'ho immaginato nel tempo non mi hanno mai soddisfatto arrivavo sempre ad un vicolo cieco la svolta è avvenuta quando durante un viaggio nell'Era Cusana e precisamente ai Chiaramonte e ai Gulfi mi sono imbattuto in un testo del primo ottocento che descrive una messa nera la cui finalità è il richiamo degli spiriti gli spiriti dell'oltre tomba da quel momento ho intrapreso un approfondito studio sull'occulto nelle tradizioni popolari siciliane e ho capito che quello doveva essere la chiave di lettura del mio Macbeth parte tutto da una messa nera che io ho scoperto nella zona del Ragusano che chiamava gli spiriti e l'eterno contrasto tra bene e il male dove chi decide di legarsi al male fa un percorso di vita che lo porterà alla dannazione e chi invece decide di slegarsi come pur avviene con Banco amico di Macbeth e invece si avvia ad un percorso Stato presentato ieri pomeriggio a Modica il libro Mare Rotto del giornalista e scrittore Michele Giardina un'iniziativa organizzata da Loni3 e dall'associazione Confronto di Modica presentato ieri a Modica presso il Palazzo della Cultura Mare Rotto di Michele Giardina pubblicato da Armando Editore l'iniziativa è stata promossa e organizzata dall'Uni3 di Modica i lavori coordinati da Paolo Oddo sono stati introdotti dal dirigente scolastico Rinaldo Stracquadanio presidente dell'Uni3 di Modica e da Enzo Cavallo dell'associazione Confronto e in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Modica non sono mancati i saluti istituzionali dell'assessore alla cultura Orazio Di Giacomo ci avete creduto a questa settima opera letteraria di Giardina ci abbiamo creduto molto anche perché diciamo si inquadra nell'opera dell'Uni3 questa università dell'Etre Età rivolta alla diffusione della cultura ma rivolta anche ad andare a incontro a chi è diciamo più diseredato quindi azioni di volontariato aiuto a bambini e anziani il libro è particolarmente interessante perché il mare rotto diciamo è una metafora che intende significare diciamo tutte le problematiche che oggi ci sono questo mare che è rotto non solo dalle onde che molto spesso imperversano ma anche dalle problematiche che l'uomo diciamo ha immesso in questo mare da quella dei migranti a quella del porto di Pozzallo a quella diciamo delle mafie delle ingiustizie eccetera Giardina è uno di quello che sa interpretare queste istanze e le sa presentare in maniera egregio tant'è che i suoi libri hanno successo ecco perché confronto si fa promotore anche di stimolare la lettura di opere come questa quindi si parla di problemi di zavorre che ci portiamo da anni da circa vent'anni poi ad un certo punto però c'è anche la soluzione al problema sì io lascio da parte le parole pesanti dico sempre che noi dobbiamo lavorare per scoprire una sensibilità diversa rispetto a quelle che sono le esigenze del nostro territorio torno a dire Michele Giardina è un giornalista che spesse volte punge bene però alla critica accompagna anche la proposta la relazione del professore Domenico Pisana che ha tracciato i contenuti della sua prefazione della settima opera letteraria di Giardina l'intervento dell'editore Armando Siciliano e quello sviluppato dall'autore hanno conferito spessore all'importante evento culturale impreziosito dalla presenza di un pubblico attento e positivamente coinvolto nel corso dei lavori le letture di alcuni parti del libro Mare Rotto e con gli intermezzi musicali curati dal giovane promettente Stefano Cintoli Mare Rotto è il risultato dell'incontro tra onde viva e morte che determina uno squilibrio delle onde sicché qualsiasi imbarcazione che in quel momento si trova in quel tratto di mare si trova in difficoltà un po' una metafora per dire che questo libro è una denuncia è una riflessione è una rabbia costruttiva contro le cose che non vanno è un testamento è una speranza è un sogno un sogno che alla fine sta per realizzarsi perché parlando di Pozzallo ma naturalmente le negatività valgono per tutti i comuni della Sicilia parlando di Pozzallo naturalmente metto l'accendo su alcune cose che non vanno che negli ultimi 20 anni ci hanno regalato una situazione amministrativa a dir poco critica e che vanno queste cose raccontate perché la gente possa prendere coscienza della necessità di stare assieme per costruire un domani migliore è davvero tutto per questa edizione non ci sono aggiornamenti grazie come sempre per averci seguiti e buona domenica grazie a tutti